La Delese non sa più vincere. Si chiude sull'1-1 la sfida casalinga con i bergamaschi dell'Aurora seriate. Quarto pareggio consecutivo per i rosso-blu di Scarpellini, mentre la vittoria manca addirittura da 7 giornate, ovvero dal 20 settembre. Avvio di gara a favore dei padroni di casa. La prima occasione è di marca Delese. Il tiro della distanza è di Tavernini, di certo non irresistibile. La risposta dell'Aurora è affidata a una punizione della tre quarti. Colpo di testa di Marchesi, palla tra le braccia di Martina. Al 32esimo ancora Delese in avanti. Doppia triangolazione sulla tre quarti tra Bohem e Paghera. L'esterno rosso-blu si infila nell'area diagonale di sinistro, palla a lato non di molto. Al 43esimo Aurora in avanti con decisione. Bonacina viene servito a centro area dopo un'azione manovrata sulla sinistra. Batti e ribatti, l'attaccante bergamasco si ritrova la palla tra i piedi e ha il tempo di piazzarla. Colpo di Reni di Martina che salva il risultato poco prima del riposo. Nella ripresa ancora bergamaschi pericolosi. Bonacina se ne va sulla destra. Traversone in mezzo per Zigrino che tenta il pallonetto. C'è anche una protesta per un presunto fallo di Manenti su Zaferi ma l'arbitro dice che si può proseguire. Un minuto dopo la partita si sblocca. Il fallo di Bohem su Zigrino appena dentro l'area è davvero ingenuo. L'attaccante si stava allargando e non correva nessun pericolo. La porta difesa da Martina. Entra a gamba tesa Bohem. Il rigore ci sta tutto. L'arbitro decreta la massima punizione e dagli 11 metri Martinelli trasforma portando in vantaggio gli ospiti. Davvero un regalo da parte dell'Adellese per l'11 Bergamasco. Bergamaschi che insistono con un'azione manovrata sulla destra. Parte Zigrino che apre per Zaferi. Martina esce a valanga e salva i suoi dalla capitolazione. Sul fronte opposto dell'Ese in avanti con Buzzoni. L'ex Carpenedolo viene liberato al centro ma il piattone è debole e centrale. Ancora dell'Ese in avanti. Calcio d'angolo. Spettacolare rovesciata di Tolotti. Paghera non ci arriva per un sopio. Sarebbe stato il pareggio meritato. Pareggio che arriva comunque al quarantesimo con il neo in tratto Gorlani che ha cambiato il volto alla partita. Sinistro dal limite rasoiata a fil di palo. 1-1 meritato per l'Adellese che non avrebbe certo meritato di uscire dal campo sconfitta oggi. Dellese in avanti nel finale a cercare la vittoria. Colpo di testa di Buzzoni. Palla fuori di un soffio. Finisce 1-1 per l'Adellese. È il quarto pareggio consecutivo. La squadra di Scarpellini ora è quart'ultima in classifica in solitaria.